L'assessore all'ambiente di Cremona Alessia Manfredini ha coinvolto le associazioni ambientaliste del volontariato sociale del territorio oltre che i rappresentanti dei comitati di quartiere con lo scopo di presentare gli aggiornamenti sul nuovo piano di raccolta differenziata porta a porta che a Cremona sta per essere esteso dalle periferie al centro storico cambiando le regole della raccolta rifiuti in linea con le indicazioni dell'Europa. Sono incontri preliminari di sensibilizzazione, stiamo dispiegando tutte le nostre forze per sensibilizzare e spiegare e accompagnare questo cambiamento. L'idea è arrivarci tutti bene, arrivare tutti insieme e anche cercare di mitigare alcuni disagi che inevitabilmente ci saranno. Importante il protagonismo dei cittadini nel nuovo sistema di conferimento, da cui l'invito alla collaborazione e all'informazione. Collaborazione senza alto ma soprattutto anche una condivisione di un progetto, che è un progetto sicuramente importante e ambizioso perché puntare sul 70% della raccolta differenziata è una cosa importante e quindi ci sarà bisogno di tutti. L'idea è proprio anche mettersi in discussione e recepire anche delle piccole miglioramenti che si possono fare da qua a primo luglio quando inizierà la prima parte di questo progetto. Ovviamente ci sono il tema dei condomini che non lo nascondiamo però si può affrontare serenamente e cercano di anche trovare le soluzioni adeguate con i cittadini ma anche con gli amministratori di condominio. Domani il tema torna in giunta dove come è stato anticipato ci sarà la conferma di un'azione di contenimento sui costi dell'Atari. Poi l'iter prosegue. La prossima etapa è sicuramente una condivisione con la Commissione Consigliare Competente, che è la Commissione Ambiente. Venerdì, settimana prossima continueranno questi incontri anche nei territori e chi vorrà anche aiutarci siamo veramente molto attivi e recepiamo anche i suggerimenti. La partita della gestione dei rifiuti è fondamentale nei rapporti tra politica e interessi economici. In questa prospettiva il Sindaco di Vescovato, Maria Grazia Bonfante, invita a leggere quanto accaduto nel Comune Cremonese, ora a rischio commissariamento a causa delle dimissioni in blocco di quattro consiglieri della sua stessa maggioranza. Una chiara volontà politica ci ha spiegato al telefono proprio alla vigilia della giudicazione della gara per il nuovo servizio di raccolta rifiuti che deve partire a giugno per la prima volta sfilato dalle mani di AEM con un regolare bando come previsto per legge.